Stanno emergendo i primi risultati dalla campagna di scavi archeologici di piazza Malatesta Rimini promossa dal comune con la direzione scientifica della Somprintendenza archeologica dell'Emilia Romagna. Un intervento propedeutico al progetto vero e proprio di recupero e valorizzazione di un luogo dell'identità cittadina attraverso la realizzazione di scavi estensivi in una porzione della piazza dove in origine si trovava l'area della corte a mare e una porzione del fossato. Finora è stato rinvenuto il muro di controscarpa, la mura esterna dell'antico fossato del castello rinascimentale, risultato in ottime condizioni di conservazione per la parte che non venne demolita in seguito al riempimento del fossato. Nell'area cortilizia della corte a mare, anticamente delimitata dalla falsa Braga, l'ampio bastione poligonale, è stata inoltre rinvenuta l'intera cresta muraria della torre demolita che ha portato anche in evidenza tracce di partizioni murarie interne alla torre stessa risalenti alla metà del 1400, mentre esternamente a tale porzione del muro si trovano tratti di pavimentazione in ciottolo di fiume risalenti al 1800. E poi porzioni murarie che non sembrano relative alla costruzione della rocca rinascimentale, bensì precedenti e risalenti probabilmente a edifici minori di epoca medievale, sono state rinvenute a ridosso della rocca tra la torre demolita e la torre T4, confermando l'ipotesi che il castello voluto da Sigismondo Pandolfo Malatesta venne edificato su precedenti edifici sicuramente di epoca medievale ma probabilmente anche più antichi.